La mia conferenza si intitolava un po' retoricamente Guerra alla retorica, basata su una contraddizione che si cerca di fare guerra alle parole usando altre parole. Il bersaglio polemico di questa mia dissertazione è l'enfasi, il vizio di voler caricare, di voler spingere, di voler pompare le proprie parole, i propri discorsi per renderli più convincenti, per affascinare, sedurre, minacciare, convincere, implorare gli altri, invece semplicemente di comunicare con loro. Credo che sia una malattia nazionale, ma una malattia umana, cioè quella di sentirsi insufficienti in ciò che noi vogliamo dire o scrivere e allora volerlo sovraccaricare. È però una malattia che ha delle conseguenze molto forti perché finisce per velare, per nascondere la realtà e confondere la verità eventuale di ciò che noi abbiamo da offrire agli altri. Questo è un po' il mio contributo che vorrebbe essere contemporaneamente un contributo qui al Festival di Sarzana, ma anche un piccolo atto politico.